Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina politica perché il Partito Democratico ha convocato lunedì prossimo una riunione di maggioranza allargata tutta la coalizione vittoriosa alle regionali del 2013. Si tratta però dell'ennesimo tentativo di nascondere i problemi esistenti considerato che i soggetti che hanno pensato l'Ulivo 2.0 e che hanno abbandonato Frattura hanno fatto sapere che non siederanno al tavolo con Patriciello e Nagni, intanto Antonio Di Pietro incontra Bersani e il centrodestra dà l'ultimatum a Patriciello o con noi o con il centrosinistra. In apertura Giovanni Minicozzi. In vista delle elezioni regionali che si terranno insieme a quelle politiche, forse la prima domenica di marzo, il Partito Democratico parte a razzo e convoca la riunione di maggioranza per il prossimo 25 settembre presso la sede del PD. La segretaria Michela Fanelli lo ha annunciato in pompa magna e il presidente Paolo Frattura lo ha confermato con una nota diffusa dall'ANSA. Lunedì prossimo si terrà una riunione di maggioranza per affrontare il tema delle elezioni e delle alleanze, ha dichiarato il governatore. Alla riunione sono stati invitati tutti i partiti dell'attuale maggioranza di centrosinistra. Paolo Frattura non ha lasciato dubbi e ha specificato. C'è interesse ad includere il più possibile da Alternativa Popolare di Nagni a MDP, passando anche per Rialgia di Molise di Patriciello e confermare così l'esperienza di governo. Non ci sono motivi per non riproporre l'alleanza del 2013, ha dichiarato all'ANSA l'assessore ai trasporti, il quale, riferendosi all'MDP, ha aggiunto i problemi semmai sono presenti in certe zone della sinistra. Auspico una coalizione allargata, ma sono scettico sulla loro intenzione, ha concluso Nagni. E infatti qui casca l'asino e le ambizioni di Frattura e di Fanelli. Danilo Leva e tutti i soci dell'Ulio 2.0 hanno fatto sapere che loro non parteciperanno al tavolo con Aldo Patriciello e Nagni e hanno ribadito che la ricandidatura di Polo Frattura al vertice della regione è improponibile. Assenza già preannunciata anche da parte di Vincenzo Niro e dei consiglieri Petraroia, che ha annunciato il quarto Polo che nascerà ai Serni nei prossimi giorni, Francesco Totaro e Scarabeo, il quale ha ribadito che Frattura è incandidabile. Dunque la partenza a razzo del PD è solo apparenza, ma in realtà risulta essere una falsa partenza considerato che intorno al tavolo siederanno solo una parte del PD stesso, i socialisti di Marcello Miniscalco e i senza partito. In sostanza la tanto conclamata coalizione del 2013 di fatto non esiste più, ma Frattura e Fanelli fingono di non saperlo. Il centro-destra accanto suo continua a confrontarsi sul programma Sicurezza del territorio, Immigrazione, Sanità e Lavoro, i punti qualificanti, ma attende soprattutto la mossa di Aldo Patriciello, al quale è stato dato un vero e proprio ultimatum, o molla Frattura entro fine settembre o sarà fuori dalla coalizione di centro-destra. Il Movimento 5 Stelle infine incontrerà i cittadini per completare la stesura del programma e presumibilmente solo dopo le elezioni siciliane sceglierà online il candidato presidente. Intanto, nelle prossime ore a Roma, Antonio Di Pietro, rientrato dall'Argentina, incontrerà Pierluigi Bersani per chiudere l'accordo con MDP e questa sarebbe l'ennesima tegola sulle ambizioni elettorali di Paolo Frattura e di Michela Fanelli. Cambiamo argomento, ci occupiamo del caso dei vigneti devastati a nuova cliternia e dei sospetti su infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. C'è stata un'iniziativa del Comitato contro le Camorre e di altre associazioni per denunciare i fatti e chiedere misure concrete. Per la prima volta parlano alcuni agricoltori che hanno subito ingenti danni e sentiamo allora il servizio di Fabrizio Occhio Nero. Oltre 20 ettari di vigneti devastati nelle scorse settimane nella zona di Nuova Cliternia. Questo è l'ultimo terreno dove i gnoti hanno spezzato i tiranti durante la notte facendo crollare tutta la struttura. Qui si è tenuta la prima iniziativa per denunciare pubblicamente l'accaduto e chiedere interventi concreti ad organizzarla il Comitato interregionale contro le Camorre, l'Associazione Antimafia Caponnetto e l'Osservatorio Molisano sulla legalità. Un'occasione per rompere anche una sorta di muro di silenzio da parte degli agricoltori che con grande sacrificio stanno cercando di continuare la raccolta. Abbiamo avuto un danno enorme, era un vigneto giovane appena rimpiantato nel 2013. Quest'azione ci fa riflettere tanto sul fatto che anche noi ormai siamo nel mirino della mafia, della Camorra come si vuole chiamare, Foggiano, non so da dove arriva. La nostra è una zona purtroppo poco presidiata. Che cosa chiedete? Chiediamo innanzitutto l'intervento della regione, quindi un aiuto immediato da parte dell'assessorato dell'agricoltura. Io non ho visto nessuno, non posso dire, non lo so, che non è che mi hanno chiamato qualcuno, qualche riscatto, niente. Il problema con qualcuno, un dispetto? Io non ci ho pagato a tutti qua, mi faccio i fatti miei, non lo so che ti devo dire. Non è che do fatti a qualcuno, evite. Siete preoccupati? Eh, penso che sì, è normale, che puoi anche ripetere queste cose. Diversi gli interventi dei responsabili delle associazioni promotrici e di altri esponenti nel corso di un incontro utile per sensibilizzare le istituzioni e chiedere interventi concreti. È un messaggio vecchio, lo sanno tutti, quello di sbarrare queste attività malavitose che certamente però non possono essere camminare con i piedi da soli. Ci deve essere un humus culturale che queste cose le fa attecchire. In modo particolare sono quelle della politica e quelle della magistratura. Se queste cose sono assenti, allora vada sì che queste cose attecchiscano. Non le diciamo da anni, però dopo anni arrivano, devo dire, l'attenzione di media. Facciamole subito l'attenzione e vediamo che queste cose forse non arriveranno troppo lontano. Il Comune di Campomarino si è interessato della vicenda coinvolgendo anche la Regione. La messa a disposizione della struttura regionale proprio per affrontare questi che sono stati i danni avuti dagli agricoltori e in qualche modo aiutarli. Sicuramente sia da parte nostra, soprattutto, non saranno assolutamente dimenticati o lasciati. Il Comitato contro le Camorre e le altre associazioni hanno annunciato un incontro pubblico in paese per tenere alta l'attenzione su questi temi e coinvolgere tutti i cittadini. Nasce il Movimento Agricolo Molisano e sabato 23 settembre alle Cupolette è attesa la prima festa agricola regionale. L'obiettivo è quello di porsi a tutela di chi opera e lavora nel settore finora bistrattato. E in compreso ce ne parla Cristina Nero. Per parlare di agricoltura è necessario che a farlo sia chi con e per l'agricoltura vive. Per difenderla, tutelarla e valorizzarla il discorso non cambia. Ecco perché è nato il Movimento Agricolo Molisano che per presentarsi agli agricoltori di tutta la Regione ha organizzato per sabato 23 settembre alle Cupolette di Vinchiaturo la prima festa agricola molisana regionale. alla cui giornata è attesa anche la partecipazione fra gli altri del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Si fanno tante feste agricole. Qualcuno mi dice no, mica la prima. Questa è la prima regionale perché non è stata mai fatta una festa regionale per l'agricoltura. E noi abbiamo istituito questa festa che speriamo nei prossimi anni facciamo le edizioni successive per l'agricoltura molisana. La chiamiamo festa perché ci deve essere un momento anche ricreativo ma noi prima della festa sabato prossimo 23 teniamo un convegno con ospiti e relatori per evidenziare i grossi problemi che sta soffrendo l'agricoltura e gli agricoltori, i coltivatori diretti perché vogliamo suggerire a chi governa oggi e a chi governerà domani quali possono essere le soluzioni. Un sindacato è il vostro vero e proprio. Esclusivamente sindacato. Ci è stato chiesto il rapporto con gli altri. Noi non siamo contro nessuno, né le altre organizzazioni agricole, né i partiti contro nessuno. Noi siamo contro l'inefficienza, l'indifferenza per l'agricoltura, l'incapacità di governare. Ecco, siamo contro questi fenomeni, queste cose, ma non contro le organizzazioni agricole che fanno più assistenza e diciamo continuate a farle. Noi ci interessiamo soltanto di sindacato agricolo. Noi vogliamo difendere gli agricoltori, i loro lavori, i loro sacrifici ed evitare il disastro del settore. Il movimento agricolo molisano che è sindacato a difesa degli agricoltori si propone anche un altro obiettivo di stampo elettorale. Nessuno di coloro che governano potrà mai comprendere cosa è meglio per il mondo agricolo se di questo mondo non fa parte. Se il nostro è un sindacato, un sindacato deve avere lo strumento di rivendicazione. Per i lavoratori dipendenti, i sindacati hanno lo strumento di rivendicazione, l'astenzione del lavoro e quindi lo sciopero. I lavoratori autonomi, gli agricoltori non possono scioperare perché non hanno né il padrone e non possono lasciare le vacche a digiuno perché se no gli muoiono e quindi il danno diventa enorme. Per cui noi diciamo che lo strumento di rivendicazione del mondo agricolo e di tutti i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e tutti, sia la partecipazione diretta nelle istituzioni. Noi ci aspettiamo che il mondo politico, tutte queste aggregazioni che si parla, di centrodestra e centrosinistra, ci possa aprire la possibilità di dialogare con loro se ci accettano le nostre proposte, le nostre idee, i nostri progetti, noi li sosteniamo letteralmente tutti insieme. Se questo non dovesse avvenire, chiaramente siamo costretti, pur di portare qualcuno nell'istituzione, di fare una propria lista. Tunnel, riassetto urbano a Termoli, referendum. Gli argomenti sono stati discussi in consiglio regionale. Alla prima mozione sul tema, firmata da 14 consiglieri regionali, se ne è aggiunta una seconda firma del consigliere Petraroia. Entrambe, dopo un'articolata discussione, sono state riunite in un ordine del giorno. Il documento, votato poi all'unanimità, invita la Commissione per il referendum, insediata al Comune di Termoli, a esaminare con attenzione premura i quesiti referendari ad essa sottoposti in relazione al riassetto urbano della città. Il Consiglio, inoltre, si è riservato di esprimere il proprio parere sul tema solo quando all'Assemblea perverrà il progetto di variante al piano regolatore della città di Termoli. Parliamo ora della Carta Costituzionale nel periodo referendario e del libro di Adele Fraracci e Mino Dentizi. È stato presentato al Comune di Campobasso e c'era per noi Tonino Danese. Lo scorso 4 dicembre il referendum costituzionale. La professoressa Adele Fraracci e il medico Mino Dentizi sono partiti da lì dal dibattito intorno a quell'argomento, dalla loro battaglia per il no, per scrivere gli appunti sulla nostra Carta Costituzionale nel periodo referendario. Il libro è stato presentato nella Sala Consigliare del Comune di Campobasso, moderatrice l'insegnante Simonetta Tassinari. Una riflessione sul senso della politica oggi, sulla democrazia, sulla sfida di attuare la Costituzione per redistribuire ricchezze e capacità, avendo come linee guida solidarietà, rispetto del merito ed etica. Non sono mancati riferimenti, in particolare al PD di Renzi, definito di destra e a quel locale molisano. Credo che il PD renziano, quindi anche qui a livello locale, abbia enormemente deluso. Deluso proprio perché si è discostato dall'idea democratica, ha dato vita ad una politica a livello locale, ad esempio che io ho identificato come sarto e ragioniere, quindi calcoli, tagli, servizi anche nella sanità, ma anche posti di lavoro. E la programmazione e lo sviluppo alla fine si è risolto un po' in un festival di bandi, bandi nei vari settori. Sinceramente il PD credo che abbia deluso tanti iscritti e simpatizzanti. Una riflessione su un Molise è stato evidenziato, violato da ciniche logiche di potere, con coalizioni talmente confuse e spesso bloccate in marchiani conflitti di interesse, da far implodere programmi, visione e missione. Gli appunti si declinano anche in un manifesto per il Molise. Un manifesto aperto a tutti, di cui noi abbiamo scritto già qualcosa su questo manifesto, un manifesto libero che può essere completamente ribaltato, completamente discusso con tutti i cittadini. Non diciamo che quello che abbiamo scritto noi è il giusto, ma è soltanto una prima bozza di discussione perché sia elaborato un programma serio. Ma non diciamo soltanto questo, diciamo anche i requisiti di chi dovrebbe essere il presidente della prossima regione Molise, dicendo per esempio che non può essere un dinosauro, un appartenente alla vecchia categoria dei politici, che non può essere un imprenditore, che non può essere uno che ha anche un minimo conflitto di interesse con le attività della regione. Una riflessione è quella di Fraracce e Dentizi, che fa emergere la necessità di un cambio della classe politica, che governa un ricambio totale. Si chiede un ricambio, si chiede un ritorno alla vera politica, si crede anche in una nuova idea di sinistra che dovrebbe essere incarnata da altri, perché gli autori affermano che la prova non è stata buona, anzi da molti punti di vista è stata fallimentare. E' questo che viene richiesto da entrambi a gran voce. Crediamo che all'interno della società, quella civile, cosiddetta civile, tra virgolette, ci sono decine se non centinaia di persone che potrebbero sostituire degnamente un consiglio regionale che negli ultimi cinque anni ha dato la peggiore prova di sé. Vorremmo che dal basso si legittimasse qualcosa di nuovo. Chiaramente l'ho detto ai presenti, ai politici presenti, dobbiamo contare su alcuni di loro. Quanti tra l'altro hanno anche assunto responsabilità di sbagli, no? E l'ordine regionale, insieme a quello nazionale degli psicologi, ha impugnato dinanzi al TAR l'avviso pubblico indetto dalla ASREM per il conferimento di incarichi temporanei per l'attivazione di un progetto finalizzato al trattamento della depressione. E il Tribunale amministrativo ha dato loro ragione sospendendo le procedure. Sentiamo perché in queste interviste realizzate da Anna Maria Di Matteo. In che cosa consiste il progetto che a questo punto ha subito insomma uno stop? Il progetto voluto dalla ASREM è un progetto di intervento per il trattamento non farmacologico della depressione, soprattutto quella che interessa il genere femminile. È un progetto che è sicuramente apprezzabile rispetto agli obiettivi, rispetto ai contenuti, perché viene valorizzata intanto la competenza psicologica di intervenire senza necessariamente ricorrere a degli interventi farmacologici con un approccio anche multidisciplinare, perché anche altre figure professionali erano interessate da questo progetto. Noi però abbiamo sentito il dovere di ordine regionale, ma anche come ordine nazionale di intervenire, perché c'erano delle anomalie nell'avviso pubblico e soprattutto nei criteri di selezione proprio della figura professionale dello psicologo. Quindi sicuramente ci aspettiamo una ripubblicazione dell'avviso pubblico, sicuramente più garante dei diritti di tutti gli psicologi molisani italiani a partecipare, senza esclusione per ideologie, per posizioni soprattutto ecoculturali di appartenenza. Il Tar vi ha dato ragione sostanzialmente? Sì, il Tar, devo dire, ha seguito in pieno la linea difensiva, che del resto era stata comunque messa d'accordo con il presidente degli ordini, sia nazionale che locale. L'importanza di questo ricorso è che raramente un ordine nazionale decide di scendere in campo. Noi come studio abbiamo già seguito altri ordini professionali a livello regionale per questioni attinenti alla lesione dei diritti della professione che loro rappresentano. È la prima volta che ci capita che un ordine nazionale decide di scendere in campo a livello regionale, quindi per un baldo di livello regionale, ravvisando che appunto nel bando messo in atto dalla ASREM si ravvisassero appunto dei profili che ledessero la professione dello psicologo. Quindi hanno deciso di reagire con forza, anche perché c'era stato un invito, un atto di diffida precedente al ricorso da parte della ASREM, che era rimasto in evaso. Avvocato, quali sono i punti maggiormente contestati dall'ordine regionale ma anche nazionale? L'ordine nazionale e l'ordine regionale hanno impugnato i requisiti specifici previsti dal bando, nonché i criteri di priorità selettiva. Noi abbiamo sostenuto che con questo sistema, quindi con questi criteri che erano stati introdotti col bando, c'era una violazione dell'articolo 97 della Costituzione che rende libero l'accesso ai concorsi, purché uno abbia ovviamente i requisiti professionali. Invece con questo sistema c'è stata una forte preclusione al punto che c'è stata una reazione da parte dell'ordine perché si è visto minato nella sua autonomia. Quindi nessuno può incidere su quella che è l'autonomia ordinamentale che è regolamentata per legge e non si possono introdurre delle figure specialistiche tipiche rispetto alla specificità della specializzazione prevista dalla legge. L'articolo 3, come ha osservato il Presidente dell'Ordine del Molise, prevede sostanzialmente la possibilità addirittura di un corso post laurea di quattro anni per diventare psicoterapeuta ed è un corso riservato sia allo psicologo che allo psichiatra. Quindi con questo sistema queste figure professionali sono addirittura messe da parte. Quindi c'è stata una ferma reazione e il TAR, raccogliendo tutti i nostri ricorsi, ha deciso di sospendere al momento il bando. Quindi ci aspettiamo da parte della pubblica amministrazione una presa d'atto e quindi che provveda di conseguenza a porre rimedio a questa situazione che noi chiamiamo un po' antipatica. Limitiamoci a dire questo per il momento. E di questa vicenda torneremo a parlarne. Ora c'è la cronaca. Una coppia di pregiudicati, un 45enne e un 43enne entrambi della provincia di Napoli sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Isernia per truffa aggravata. La coppia, dopo aver telefonato a un uomo di 80 anni di Colle al Volturno, ha consegnato un pacco con una finta bilancia elettronica destinata al nipote facendosi consegnare 1.500 euro contanti. L'ottantenne accortosi della truffa l'ha denunciata ai carabinieri che mostrando alcune foto segnaletiche all'anziano ed esaminando i tracciati telefonici sono risaliti ai due truffatori e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica. E' stato trovato senza vita nella sua villetta alle coste di Oratino Mario De Filippis, 65 anni, ex dipendente tecnico della RAI del Molise. La tragica scoperta è stata fatta dalla moglie sul posto la polizia di Campobasso per accertare le cause della morte. Si tratterebbe di suicidio. Aveva due figli ed era molto conosciuto e molto apprezzato. Parliamo ancora della vicenda dei cantonieri della provincia di Isernia licenziati un anno e mezzo fa perché la legge Madia permette la loro stabilizzazione. Lo sostengono i comitati e le associazioni che da mesi si stanno battendo per far sì che l'ente di via Berta li riassuma. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La legge che prevede il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni apre nuovi spiragli per i 34 cantonieri e autisti della provincia di Isernia licenziati l'anno scorso. Per il sindacato CSA, per il Partito Comunista dei Lavoratori, per l'Associazione Antimafia Caponnetto e per lo stesso Comitato Cantonieri ci sono tutti requisiti per un'assunzione da parte dell'ente di via Berta. Il concetto è stato ribadito durante una conferenza stampa convocata nella sede del sindacato autonomo. Finalmente è uscita questa legge Madia che permette alle amministrazioni di sistemare i precari che negli ultimi otto anni hanno effettuato tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione. Finalmente questa legge permette la loro stabilizzazione. Quindi noi abbiamo rilanciato e quindi fatto questa nuova proposta alla provincia di Isernia, al Presidente e a tutti i consiglieri provinciali per la stabilizzazione di questi 34 cantonieri che sono stati licenziati da marzo 2016. Abbiamo fatto un chiarimento, un quesito al Ministero della Funzione Pubblica e quindi siamo in attesa anche di avere questo parere da parte del Ministero. La proposta indirizzata ai vertici della provincia rischia tuttavia di cadere nel vuoto. Il Presidente dell'ente Sernino Lorenzo Coia ha già risposto sostenendo che non ci sono i presupposti oggettivi per la stabilizzazione anche a causa della carenza di fondi. Di diverso avviso i promotori dell'ennesima battaglia a sostegno dei cantonieri. Non ci sono risorse anche che questa legge madia della stabilizzazione non si potrebbe applicare ai precari della provincia. Noi sosteniamo una tesi contraria perché la legge madia è intervenuta proprio per stabilizzare tutti i precari della pubblica amministrazione. Le eccezioni sono previste dalla stessa legge e non è contemplata quella della provincia. Per quanto riguarda le risorse la provincia ha comunque le risorse destinate alle funzioni fondamentali tra cui la manutenzione delle strade a 800 e più chilometri di strada che devono essere assolutamente oggetto di manutenzione e noi sosteniamo che questa manutenzione la debbano fare questi operai precari. Ci sono sia presupposti giuridici che finanziari lo abbiamo dimostrato nella nostra proposta. Inoltre questa è un'interpretazione restrittiva che ha fatto la provincia del tutto arbitrario. Avrebbe quantomeno dovuto chiedere un parere al Ministero della Funzione Pubblica cosa che comunque abbiamo fatto noi. Restiamo a Isernia perché c'è tanta delusione e tanta amarezza nelle famiglie per la mancata assegnazione della gestione della piscina comunale di Contrada Le Piane e forse oggi Isernia è l'unico capoluogo di provincia italiano a non avere in funzione una piscina né pubblica né privata sul suo territorio. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Perplessità ed amarezza in tutte le famiglie isernine a causa dell'ennesimo rinvio per la riapertura della piscina comunale di Isernia chiusa oramai da due anni. Ci sono così bambini nati dal 2012 in poi nel capoluogo Pentro che non sanno come è fatta una piscina e soprattutto è negata a tutti loro la possibilità di imparare a nuotare. Probabilmente per un capoluogo di provincia un caso unico in Italia visto che sul territorio Isernino la piscina pubblica di Contrada Le Piane era l'unica a funzionare. La notizia già data è che il bando per la gestione dell'impianto è andato deserto. Nessuno tra i privati potenzialmente interessati ha depositato un'offerta. Il motivo sembrerebbe legato agli eccessivi investimenti e alle garanzie finanziarie del capitolato d'appalto preparato dal Comune. Ci sono anche voci che parlano di un accordo tra privati per boicottare il bando di Palazzo San Francesco. Comunque sia il risultato è che la piscina resta chiusa e chissà per quanto tempo ancora senza considerare che c'è anche chi parla di un impianto talmente vetusto da essere destinato all'abbattimento ovvero costerebbe più rimetterlo in regola con le ultime norme di sicurezza che abbatterlo e ricostruirlo da capo. Tutte notizie negative micidiali per un'opinione pubblica come quella isernina già in ginocchio e prostrata per tanti altri motivi. Se alla piscina aggiungiamo l'università sparita da Isernia centro le facoltà di infermieristiche e professioni sanitarie andate via dal capoluogo per mancanza di strutture idonee ad ospitarle il lavoro che non c'è e la crisi immobiliare possiamo constatare come davvero ci sia bisogno di una scossa un elettroshock o un massaggio cardiaco se così si può simbolizzare per dare una bella sveglia a Palazzo San Francesco la politica di fronte alle congiunture negative deve trovare strade diverse e se non ci sono all'obbligo di immaginarle e poi metterle in pratica è chiaro che le difficoltà e le pastoie burocratiche e legali spesso impediscono voli pindarici ma qualche rischio bisogna pur prenderselo per guidare una città e non accompagnarla semplicemente all'obbitorio metafore a parte alla ripresa autunnale il Comune di Isernia ha l'obbligo di dare delle risposte a partire proprio dalla piscina magari tornando indietro magari facendo il mea culpa e magari dando la ingestione provvisoria a qualche privato di buona volontà chiedendogli di investire quel minimo di soldi per la sicurezza necessari a ripartire in cambio di un contratto pluriennale alla ripresa dei lavori a Palazzo San Francesco si spera vivamente che non si parli solo della sfiducia a Lombardozzi cosa che alla gente interessa poco ma della piscina e del perché resta ancora chiusa la conoscenza della lingua inglese delle lingue in generale la tecnologia le abilità informatiche in un incontro alla British School di Campobasso tutto questo è stato l'argomento centrale in occasione della Open Day che si è svolta nella sede di via Scardocchia a Campobasso c'era per noi Valeria Farina essere cittadini del mondo conoscendo le lingue e con l'abilità dei mezzi informatici e tecnologici paiono essere questi oggi requisiti delle nuove generazioni ma anche di chi vuole essere al passo con i tempi la British School di Campobasso soddisfatta per il primo anno di attività ha presentato la sua offerta per il nuovo anno accademico ad un anno esatto dall'inaugurazione della nuova sede eccoci di nuovo a promuovere il nuovo anno scolastico che spero sia proficuo come quello passato possiamo ritenerci soddisfatti di questo primo anno nella nuova sede in quanto c'è stata un'ottima risposta da parte dell'utenza infatti abbiamo avuto un notevole incremento delle iscrizioni è aumentato il numero delle collaborazioni con le scuole pubbliche e di conseguenza è aumentato anche il numero delle certificazioni rilasciate colgo l'occasione di ricordare che anche dopo l'open day il nostro personale di segreteria è a disposizione per informazioni sui corsi e per prenotare un test gratuito la nostra scuola organizza corsi collettivi per bambini ragazzi e adulti non solo della lingua inglese ma anche di altre lingue sono anni che organizziamo corsi di spagnolo francese e tedesco inoltre organizziamo corsi di informatica siamo centro AIPAS quindi siamo un centro accreditato per il rilascio delle certificazioni informatiche riconosciute a livello internazionale organizziamo corsi aziendali corsi di inglese professionale in più offriamo consulenza per quanto riguarda la stesura di tesi e curricula offriamo anche l'attività di traduzione e quest'anno abbiamo organizzato anche il campus estivo che ha avuto un enorme successo imparare e crescere con metodi all'avanguardia e sempre nuovi diciamo che la nostra filosofia metodologica si basa molto sull'aula interattiva e comunicativa dove lo studente diventa protagonista del suo percorso formativo mentre sta con noi lo studente è al centro del processo di apprendimento e viene incoraggiato a partecipare e contribuire attivamente durante il percorso con noi durante l'open day nella sede di via Scardocchi a Campobasso sono stati accolti studenti e famiglie e sono stati consegnati gli attestati a chi già ha frequentato i corsi di lingua le lingue e l'informatica per essere cittadini del domani parliamo ora di un traguardo significativo mezzo secolo di attività per una delle agenzie storiche nel ramo assicurativo in Molise una storia di famiglia e impresa nata negli anni 60 che festeggia con una cerimonia la presenza dell'amministratore delegato di una delle compagnie leader nel settore ce ne parla Giuseppe Carriera Ascolto concretezza rapporto umano oltre che di lavoro valori universali che sono diventati la base di una storia professionale familiare quella di un giovane capo stazione Mario Valente che nel 1967 decideva di lasciare il cosiddetto posto fisso per diventare agente generale di assicurazioni quel mondo che lo appassionava tanto mezzo secolo di storia del settore che è stato ripercorso e raccontato con commozione ed orgoglio in una cerimonia sobria e partecipata da Rachele Valente figlia del compianto fondatore e da 27 anni manager nel settore assicurazioni mio padre era un giovane capo stazione e a lui fu proposto di cambiare mestiere lui contro il volere dei genitori i contadini all'epoca fecero tanti sacrifici per farlo studiare e furono contrari tuttavia ha decise comunque di intraprendere una nuova strada professionale una nuova sfida e oggi ecco la storia della Valente Assicurazioni dopo 50 anni siamo ancora qui grazie a lui certo dobbiamo seguire comunque le tendenze le innovazioni è importante questo tuttavia ciò che abbiamo sposato come politica è quello di offrire sempre consulenza trasparenza ed essere sempre presenti da oltre un decennio l'assicuratrice molisana è agente generale della AXA brand di rilevanza mondiale in testa alle classifiche del comparto e per l'occasione è giunto in Molise il numero uno della compagnia in Italia l'amministratore delegato Patrick Cohen prima di tutto oggi è una giornata molto speciale ci tenevo a essere presenti io credo che alla base di questo successo ci sia prima una grande imprenditorialità una storia di sviluppo di trasmissione tra generazioni la seconda cosa è la passione per fare la differenza oggi ci sono molti clienti presenti e questo vuol dire che nel servizio la consulenza questa agenzia c'è la terza cosa è la relazione tra la compagnia e la gente e anche lì una bella storia umana siamo un leader nel settore assicurativo mondiale siamo in 64 paesi abbiamo 107 milioni di clienti nel mondo e praticamente vogliamo fare la differenza sull'innovazione innovazione vuol dire essere all'avanguardia nel rispondere alle esigenze che sono in piena mutazione una delle parti fondamentali della cerimonia è stata la premiazione con una targa ricordo di assicurati storici dell'agenzia alcuni anche da più di mezzo secolo dal 1964 lei e io nel 66 nel 66 già erano assicurati per quanto riguarda non soltanto l'auto mi dicevano addirittura si parlava di prevenzione sulla vita sì sulla vita una polizza sulla vita 500 familiari 1100 Opel Ford Transit Giulia e Dacia 1959 con la Vespa 125 per portare mia moglie che mi sono sposata l'anno prima portava una persona dietro succede qualcosa è buona a mettersi a ripare il taglio della torta e un buffet hanno completato l'evento da domani di nuovo tutti al lavoro il giovane staff che affianca la manager molisana ogni giorno è sui pezzi come si direbbe in gergo sportivo dall'altra parte circa 4000 assicurati alcuni dei quali da oltre mezzo secolo era l'ultimo servizio termina qui anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise grazie perché scegliete la nostra informazione buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti